No, non c'entra niente, se tu entri e gli altri non sono al livello puoi farlo Basta che quello che ha creato la squadra o quello che entra sia a livello 20 Lo facevamo anche come all'inizio, che era un livello 1, c'era il wash Pensa, pensa E la luna però a livello 14, non è al 20 No, 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 tu, cioè, basta che quello che avvia la squadra sia a livello 20 Gli altri che se ne frega che livello siano Non ne frega niente Però comunque sia bandito, cioè Eh sì, perché siamo usciti, quindi non ho capito quanti giorni dobbiamo aspettare No, uno, penso Ah, ok E così tanto? In verità non ve lo volevo dire, ma Deci giorni dobbiamo aspettare Per cosa Grazie amore Per cosa Beh, mi hai tornato sul cinema Ma beh, dai, provato Smoke Ok Ok No, no, provo smoke Perché provo il drogato Porca troia Ti ho lanciato una granata e non te ne sei a cuore No, il drogato la pasta al vesto su un attimo Che bella visione Porca troia Magari una tipica ti vomita sull'uccello mentre ti fa un pompino È schifo, l'ho visto anche Ma che schifo Ma che schifo Ma fa culo Ma che mi è successo, ma è successo, ma l'ho visto, in un video Ma che schifo Ma che non è successo Ma che schifo Ma no, qua, qua Di vero Dove è andato? Ma gabbia Di merda Ma daga, ma cos'è? Trovandola bo No, ragazzi, c'è un dottor bo Allora, allora Tricore, che ti chiami? Dottor bo 666. L'unico 666 sono io. Non vuole. Non va. E io taglio il diabolo. Dove buttare le granate. Coda fratello porto. Coda fratello orso. Andiamo coda. Coda fratello porto. Mi ha fatto unire un infarto. Ancora 5 secondi. Ma chi sta parlando? Ma raga venite a vedere la fisica di questi vasi. E nemmeno ha trovato una bomba. C'è? Va. Perché i miei devono guardarsi i film a quest'ora? Perché dopo. Perché? Non rompe i libri. Rompili. Bruzzali. No, 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 vada qui. Vada, mi hai condannato tutta una merda. Ma è aperta la porta. Riva. Kenzo, no, Kenzo, no, non uscire, non uscire. Kenzo, guarda verso di me. Guarda verso di me, Kenzo. Sta arrivando, sta arrivando. Vai, Kenzo. Non posso capire. Ma, hai saputo, ragazzi, che esistono le ultime telecamere? Perché è tiga, ne avevo tre qua, ragazzi. Non da solo. Che c'è tutto perché ho preso smoke? Chiudi, 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 chiudi. Ma c'è morta. Io ho uno di vita. Che santo muoio. Ragazzi, ma sapete che c'è? Sono due bombe. Ma che cazzo è successo? Wow, f***, ho sopravvissuto veramente il culo. Ma vabbè, ma che culo ha avuto questo? Ma vaffanculo. L'operatore alleato è rimasto. No, vabbè. Cosa? Cioè, no, vabbè. Tu fatti non vuoi piedi d'acciaio? No, avete visto? Sì, ho visto. Ma... Grazie. 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 Chi è che sta scorreggendo con un magrebino? Ci va del fucilato un po' Ah, ma domani lavoro. Porco Dio, è vero? Dovete usare il drone per trovare una bomba. Ma io andavo, io andavo... Ma il botanone. Ah, ciao porci. Il drone alleato ha trovato una bomba. Ma porca ce l'hai mai trovato sul cibo. Un pompino con lo sbocco. Uff, è schifo. Ah no, dai. È quello che è il tuo sogno, però calmati. Basta queste cose. Dai, sono cose molto ecchi. Ecchi. Eccitante come un giugno al culo. Non è un'ora che il farsi in fila la vita nel culo è eccitante. Non. Che piace a te. Sì, esatto, ognuno è sua. L'una, lì, ci mette disatto. Perché? È lì, è lì, è lì. A Proffi, ti piacciono cose strane. È una coppia mia. E vabbè, che è? T'ho preso due volte. Devi recuperare il disinnescatore. No, ragazzi, cioè io passo. Vabbè, dai, gli ho sparato in pieno petto a Falchire col fucile a pompa di Cosovo e non gli ha fatto niente, dai. Sulle scale. Sì, t'attene, c'è l'angonese. E il disinnescatore è stato recuperato. A destra. Per mescare, tardi. Ostrega, qua? Ma vaffanculo, t'ho sparato, t'ho visto, non t'ho sparato. Mi faccio suicidare, guarda. Figa, che cazzo di contrasto. È lì a destra, è lì a destra. È lì a scuola. Ma che cazzo se ne sono? A destra, tipo qua? Eh, ma niente. Eh, no, è già morto. Eh, è già morto? No, è già morto, no? No, niente, io non l'ho visto, non me ne ero accorto. Non so, pronti, che vedo. Ragao, io adesso sto giocando a cazzo perché sono nel panico più assoluto. Buttati giù. Dietro, 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 di me lo sentiamo. Senta camminare. Oh, strega patacca, vero? Oh. Ah, beh, allora hai capito tutto. C'è uno stronzo con il coso. Oh, la bomba, pro. La bomba. La bomba è quella di Asch. Ah, vittio, bello. Telecamera. Non è bello, sono un tigrello. Ma cosa cazzo? Va bene. Va bene, sono bella. L'ultimo attaccante è rimasto in vita. Dov'è l'altro? È in giro. L'ultimo attacco è eliminato. Basta, raga, io divento presidente. Non ci credo. Sì. Avrei calcolato che si è presa una fucilata in pancia, quella lì, eh. Ma non ci posso fare. Da un metro. Nooo. Frost power up, porco Dio. Che ha avuto cinque. Ma nonna. Ha fatto full team. Che cazzo, ha fatto solo due. Come full team? No, uno l'ha ammazzato padre. All'altro. All'altro. E no minority con questo punto. Ci troppo e piore. ansen.